Ciao a tutti benciornati sul mio canale, io sono Miss Giulia e questo è un nuovo tutorial in collaborazione col sito Bitpark. Il primo tutorial realizzato in collaborazione con il sito è questo qui, è un elemento realizzato appunto in resina con questo bellissimo perno in acciaio, il risultato davvero molto carino, se vi siete persi questo video ve lo allinco qui nella i di informazione. Adesso passiamo alla tessitura di berline e vi illustro, vi mostro cosa ho realizzato per il secondo video in collaborazione con Bitpark. Ho realizzato il modello Zahira ed eccolo qui, davvero molto molto carino, leggero, adatto all'estate, brioso, allegro. L'ho chiamato appunto Zahira e credo che sia perfetto per questo elemento, ve lo mostro anche nei laterali, vedete è fatto in questo modo. L'ho realizzato appunto con i materiali scelti per la collaborazione con Bitpark e andremo ad utilizzare infatti dei materiali molto molto semplici come Delica, Rokail 11.0, Rokail 15.0, perle, cipollettini e ovviamente un perno. Adesso vi illustro tutti i materiali che ho utilizzato. Allora, in primis ho scelto appunto le Delica sul sito di Bitpark, questo è il codice, ho preso due colorazioni, una più bella dell'altra, questa qui è la prima ed è esattamente l'Opac Sia Opal AB ed è la DB 1576, sono appunto Delica della Miyuki 11.0. E poi anche la seconda colorazione che è quella appunto che andremo ad utilizzare per questo modulo, questo qui è il codicino, sono pacchettelli da 10 grammi e questa è la colorazione che ho scelto per riprodurre gli orecchini Zahira. Queste qui appunto sono le Opac Agate Blue AB ed è DB 1577, è davvero un colore spettacolare, sono davvero molto belli entrambi e quindi andremo ad utilizzare le Delica 11.0. Poi per quanto riguarda le Rokail 11.0 vado ad utilizzare le Rokail della Toco, sempre sul sito di Bitpark troverete anche le Permanent Finish Galvanized Rose Gold e sono appunto le PF551, davvero uno spettacolo di colore, ve le straconsiglio e ovviamente vi occorrono anche le Rokail 15.0, io andrò ad utilizzare nella medesima colorazione. Per quanto riguarda poi le perle, anzi prima vi mostro i perni che sono davvero spettacolari, i perni ho scelto questi qui in acciaio, sempre presi appunto dal sito di Bitpark, è un perno davvero molto bello, molto elegante, in acciaio, si presenta in questo modo con l'asolina sul retro per poter agganciare le nostre lavorazioni in tessitora e questo è appunto il codice di questo articolo. Poi ne ho presi anche ovviamente altri perni, sempre dal sito di Bitpark, questa è un'altra tipologia di perno, poi giù in descrizione come vi dicevo prima ve le linko tutti i link dei singoli prodotti e questo è un altro tipo di orecchino, poi c'è questo qui ovviamente che ho aggiunto qui al primissimo tutorial, che è questo, questo è il codice e poi anche questi qui l'avevo scelto, davvero molto belli anche questi, sono tutti perni in acciaio, vi mostro anche questo qui, che è anche questo molto molto bello e particolare, qui c'è il foro in basso e sono tutti quanti a perno con la farfallina, questo è il codice, davvero molto molto belli questi perni. Poi per quanto riguarda la parte centrale luminosa del nostro orecchino zachira, andremo ad utilizzare 4 perle da 6 mm, queste sono delle perle in pietra dura, poi andrò ad utilizzare 2 dimensioni di cipollottini, abbiamo qui i 3x2 mm, io le ho scelte nella colorazione 2 gialli e 2 arancio, poi per quanto riguarda quest'altra dimensione sono le 4x3 mm e ne ho scelti 3 gialli, 1 fucsia e 1 verde, poi sta a voi decidere le colorazioni per il vostro orecchino zachira. Come filo sto utilizzando il fireline misura 0,15 mm che è appunto il 6 lb e come ago sto utilizzando un pony, sempre se lo trovo qui sul tappetino, eccolo qui, un pony tutto stortignaccolo misura 12 mm. Vi lascio al tutorial. Prima di iniziare col tutorial voglio mostrarvi anche questi cartoncini presi sempre dal sito di Beat Park, sono davvero molto comodi e ne ho presi questi qui, questo è appunto il codice, sono 100 pezzi e poi ho preso anche quest'altra tipologia davvero molto carina a forma di cuoricino, vi ripeto tutti i link, ve li metto sempre giù sotto nell'info box, davvero molto carino per gli orecchini diciamo a perno, quelli un po' più piccini, questo è il codice e poi ho preso questa tipologia ancora più piccolina, al limite da aggiungere alle scatoline per decorare le nostre scatoline e in the made with love, davvero molto carino, basta aggiungere un nastrino e poi agganciarla alla scatolina per poter vendere le nostre creazioni e questo è appunto il codice, sono sempre 100 pezzi e costano davvero pochissimo sul sito di Beat Park, quindi vi lascio il link giù sotto in descrizione e andate a spulciare, un bacio. Primo passaggio, inserite esattamente questa sequenza sul vostro ago e sul vostro filo, una rocaille 11.0 della Toco, una perla da 6 mm, una rocaille 11.0, una perla da 6, una rocaille da 11.0, una perla da 6, una rocaille 11.0, 20 delica della Miyuki 11.0, una rocaille 11.0 e di nuovo 20 delica della Miyuki 11.0. Chiudete la lavorazione a cerchio e ritorno da voi. Rieccomi, questo è il risultato, ho chiuso la lavorazione a cerchio, ho effettuato due nodini in questo punto ed ho anche unito i fili con un altro piccolo nodino. A questo punto vado a lavorare al peyote qui in alto, quindi inserite una nuova delica sul vostro ago e saltate, io mi ritrovo a fuorcire dalla rocaille 11.0, saltate la prima delica e vi rinfilate nella delica che viene subito dopo, cioè la seconda, in questo modo. Prosiego così fino alla fine, quindi di nuovo una delica, ne salto una e rivado nella delica che viene subito dopo. Vado ad inserire l'ultima delica di questo lato, quindi inserisco una delica sul mio ago e rientro, salto questa delica e rientro in questa delica, rocaille delica, rientro in queste tre, in modo che posso nuovamente continuare questa lavorazione anche da quest'altro lato, quindi di nuovo una delica, salto questa delica, la seconda e rientro nella terza delica. In questo modo, vedete? Adesso continuo sempre con il peyote fino a questo punto. Vado ad inserire anche l'ultima delica, ed eccola qui, salto ovviamente l'ultima delica e rivado direttamente nella rocaille 11.0, nella perla, nella rocaille 11.0, ripasso in tutte queste perline per risbucare dall'altra parte, quindi ripasso nella perlina, nella rocaille, di nuovo nella perla e di nuovo nella rocaille, ed ecco qua. E mi rinfilo ovviamente anche in questa delica qui. E nuovamente in questi spazietti qui vacanti vado ad inserire una delica 11.0, quindi una delica 11.0 e rivado nella delica sporgente, di nuovo una delica 11.0 e rivado nella delica sporgente. Proseguo con questo passaggio fino ad arrivare a questa delica qui e ritorno da voi. Rieccomi, vedete? Fuoriesco appunto con l'ago e con il filo dall'ultima delica sporgente di questo lato. Mi rinfilo anche in questa delica qui accanto, questa in basso, ed inserite esattamente sul vostro ago e sul vostro filo una delica, una rocaille 11.0 e una delica. Questa qui è appunto la sequenza. E rientrate, saltate la rocaille 11.0 e rientrate in questa delica qui in basso e anche quella sporgente in alto, quindi rientrate in queste due delica e tirate ovviamente il filo. Aggiustate le perline in modo da formare questa punta. Aspettate, aggiusto un po' la rocaille 11.0. Ecco qui, in questo modo. Adesso di nuovo in questi spazietti qui vacanti andrò ad aggiungere una delica e rientro nella delica che viene subito dopo. E realizzo questo passaggio ovviamente fino alla fine, cioè per tutto il lato. Ed ecco qua. A questo punto il mio filo si ritrova in questa delica qui, quest'ultima, ripassate con l'ago e con il filo nella delica interna alla lavorazione, cioè in questa, in questa delica qui. E tirate il filo. A questo punto andate ad inserire in questi spazietti qui vacanti di nuovo una delica 11.0, quindi una delica sul vostro ago e rientrate nella delica sporgente che viene subito dopo, cioè questa qui. Continuate questa lavorazione fino ad arrivare a questa delica qui interna. E questo è il risultato. Vedete, mi ritrovo a fuoriuscire appunto da questa delica qui. Adesso ripasso nella delica, questa qui in alto, nella roccaile 11.0 e anche nella delica accanto. Ripasso in queste tre perline. Ed eccomi qua. E ripasso anche in questa delica qui sporgente interna della lavorazione, cioè in questa. E nuovamente in questi spazietti qui vacanti vado ad aggiungere una delica 11.0, quindi una delica e arrivato nella delica sporgente che viene subito dopo. questo è il risultato al momento. Abbiamo appunto 5, vedete, 5 file. Contiamo appunto queste due righe, 5 file fatte appunto al peyote. E questo appunto è il risultato. Adesso andremo a decorare la parte interna con cipollotti e perle. Per la decorazione io ovviamente mi ritrovo a fuoriuscire da questa delica qui. Adesso ripasso in queste due deliche andando verso l'alto, queste due. riscendo in questa delica qui centrale delle tre. E risalgo in questa perlina sporgente interna alla lavorazione. Ed eccomi qua. In pratica sono ripassata all'interno di queste perline per risbucare appunto da questa delica qui. E adesso andiamo a decorare il nostro elemento zahira. La prima decorazione che vado ad inserire è questa qui. Esattamente una rocaille 15-0, un cipollottino da 4x3 giallo, una rocaille 15-0, un cipollottino da 4x3 fucsia, una rocaille 15-0, un cipollottino 4x3 giallo, e di nuovo una rocaille 15-0. Questa qui è la prima sequenza. Io appunto fuoriesco da questa delica interna sporgente e mi rinfilo nella prima delica sempre sporgente dell'altro lato, ovviamente andando dall'alto verso il basso in questo modo. E tiro il filo. Rientro in tutta la sequenza nuovamente, ripasso in tutta la sequenza e poi rinserite l'ago nuovamente nella delica iniziale andando dal basso verso l'alto. e stringendo appunto il filo per bene. A questo punto potete anche ripassare nuovamente nella sequenza. Io sinceramente mi basta ripassare due volte. Quindi adesso con l'ago e con il filo, ripassate, io sono in questa delica qui sporgente, ripassate in questa delica qui, in queste due delica. Aspettate che infilo l'ago e vi mostro in queste due. ed eccomi qua, stringete bene sempre il filo in questi passaggi. Io mi ritrovo a fuorescire da questa delica qui sporgente e adesso rientro nuovamente in queste due. e vado ad inserire la terza decorazione. Vedete? Mi ritrovo a fuorescire appunto dalla terza delica sporgente e adesso vado ad inserire la decorazione. Inserite un cipollottino da 3x2 giallo, una perla da 6 mm e un cipollottino 3x2 giallo. E nuovamente io fuoriesco ovviamente dalla terza delica sporgente di questo lato e mi rinfilo sempre nella terza delica sporgente dell'altro lato. Quindi sempre andando dall'alto verso il basso. Questa è la prima, la seconda e io mi rinfilo ovviamente nella terza delica. Poi nuovamente ripasso di nuovo nella sequenza per risbucare dall'altra delica. Stringete sempre bene questi passaggi, stringete bene il filo e rientro anche nella delica. In questo modo. Adesso nuovamente ripasso in queste delica qui a zigzag per risalire e decorare ulteriormente il mio modulo. Quindi ripasso in queste due e ripasso in queste altre due delica. Ovviamente tra una decorazione e l'altra se appunto notate sto lasciando una delica libera. Quindi una delica sì, una delica no, una delica sì, una delica no. Così per andare a decorare la parte interna del nostro modulo. A questo punto mi ritrovo esattamente a fuoriescire dalla quinta delica sporgente. Vedete questa qui. E vado ad inserire un cipollottino 3x2 arancio, un cipollottino 4x3 verde e di nuovo un cipollottino arancio 3x2. E nuovamente vado ad infilare l'ago sempre nella delica parallela, ovviamente la quinta, sempre andando dall'alto verso il basso. poi ripassate nuovamente nella sequenza. Ripassate nuovamente in queste quattro delica sempre a zigzag, quindi ripasso nelle prime due e ripasso nelle altre due delica qui in alto. Ecco qua. Sono ripassata appunto in questa delica qui. Vedete, ho saltato sempre una delica qui centrale e adesso la sequenza è una rocaille 15-0, un cipollottino da 4x3 e una rocaille 15-0 e riandate sempre nella delica parallela, cioè questa. Ripassate nuovamente nella sequenza per risbucare dalla delica di partenza. in questo modo. Ed ecco qua. Adesso ripassate nuovamente in queste due deliche andando a zigzag in alto e ripassate anche in altre due delica, sempre per un totale di 4 delica. ed ecco qua sono risbocata appunto da questa prima delica sporgente qui in alto. Inserite una rocaille 11-0 sul vostro ago e rientrate nella prima delica sporgente dell'altro lato. Di nuovo una rocaille 11-0 sul vostro ago e rientrate nella delica di partenza, cioè questa qui, andando dal basso verso l'alto e tirate bene il filo. Ripassate in questo in questo modulo nuovamente in queste quattro perline quindi rocaille, delica, rocaille, delica in modo da stringere il lavoro qui in alto. E adesso dobbiamo fuoriuscire con il nostro ago e con il nostro filo da questa delica qui sporgente esterna alla lavorazione. Quindi io mi ritrovo in questa delica qui ripasso nella delica qui in alto questa qui e riscendo ovviamente in queste due delica e sono appunto fuoriuscita dalla delica sporgente esterna alla lavorazione in questo punto. Adesso inserite sul vostro ago una rocaille 15-0 e rientrate nella delica che viene subito dopo sporgente di nuovo una 15-0 e rientrate nella delica sporgente fate questo passaggio per altre due volte quindi per un totale di quattro rocaille 15-0 qui sul bordo quindi eccole qui le quattro rocaille eccole e adesso dobbiamo inserire altre rocaille in questi qui spazzetti qui vacanti andrò ad inserire una rocaille 11-0 quindi rocaille 11-0 è arrivato nella delica una nuova rocaille 11-0 è arrivato nella delica una nuova rocaille 11-0 è arrivato nella delica l'ultima rocaille 11-0 è arrivato in questa delica adesso ritorno indietro nella lavorazione quindi una rocaille 11-0 è arrivato nella rocaille 11-0 di nuovo una 11 è arrivato nella 11 che viene subito dopo di nuovo una 11 è arrivato nella 11 di nuovo una 11 è arrivato nella 11 e stringo per bene il filo adesso vado ad inserire in 1 2 3 4 spazzetti una rocaille 15-0 quindi una rocaille 15-0 è arrivato nella 15-0 stringete bene il filo in questo passaggio in modo che andiamo a creare tensione al nostro modulo quindi una 15 è arrivato nella 15 di nuovo una 15 è arrivato nell'ultima 15 di questo lato e questo è il risultato ho inserito appunto le 4 rocaille 15-0 adesso mi rinfilo in queste 2 delica di nuovo una rocaille 15-0 e ripasso nella delica rocaille delica ripasso in queste 3 stringo bene il lavoro di nuovo una rocaille e ripasso in queste 2 delica e adesso qui vado a rifare i medesimi passaggi che ho realizzato appunto in questo lato quindi inserirò prima le 15-0 e poi le 11 poi di nuovo le 11 e le 15-0 faccio questo passaggio e ritorno da voi a questo punto vi riesco appunto da quest'ultima rocaille 15-0 qui in alto inserite altre 2 rocaille 15-0 e rientrate direttamente in questa rocaille 15-0 qui in alto in questo modo di nuovo 2 rocaille 15-0 e rientrate nella rocaille 11-0 questa qui in punta nuovamente 2 rocaille 15-0 e rientrate nella rocaille 15-0 di nuovo 2 rocaille 15-0 e rientrate in questa rocaille 15-0 qui in questo modo vedete adesso rigiro con con la lavorazione quindi io mi ritrovo a fuorescire da questa rocaille 15-0 qui ripasso in questa delica qui interna ripasso in questa delica qui accanto andando verso l'alto ripasso in queste due delica in pratica devo risbucare da questa rocaille 15-0 qui in prossimità appunto della rocaille 11-0 quindi sono in questa delica e ripasso in queste rocaille 15-0 qui laterali e appunto sono risbucata dal rocaille 15-0 qui in alto a questo punto inserite una rocaille 11-0 e rientrate nelle rocaille 15-0 queste laterali in questo modo vedete quindi ripassate un po' in queste perline queste del bordo in pratica risalgo nella delica accanto e rivado a risbucare dalla rocaille questa qui centrale quindi ripasso ovviamente in queste delica qui in alto ripasso anche in questa 15 in queste 2-15-0 e anche nella 11-0 qui centrale inserite 2 rocaille 15-0 il perno questo qui in acciaio di bid park e 2 rocaille 15-0 e rientrate ovviamente nuovamente nella rocaille 11-0 questa qui centrale ripassate ovviamente di nuovo in questa sequenza quindi le 2 le 2 rocaille 15-0 il perno e nelle 2 rocaille 15-0 così andiamo a stringere per bene la lavorazione poi ripassate nella 11-0 centrale e nelle 2 15-0 queste qui laterali e stringete per bene il tutto e questo è appunto il risultato 2 perline da un lato e 2 perline dall'altro in modo che il perno resta bello stabile quindi non ci resta che ripassare un po' all'interno della lavorazione per rinforzarla ulteriormente e l'orecchino Zakhira è terminato io ripasso ovviamente all'interno e poi vi mostro l'orecchino terminato ed ecco qui gli orecchini Zakhira terminati io spero che questo tutorial sia stato di vostro credimento lasciatemi un like e un commento se vi va se replicate il modello Zakhira taggatemi sui vari social facebook instagram vi lascio giù nell'info box i vari i vari link ovviamente su instagram potete iscrivere anche hashtag miss giulia in modo che posso vedere tutti i vari tag delle vostre riproduzioni del modellino Zakhira io ovviamente sono sempre contentissima di vedere le vostre versioni quindi sbizzarritevi io vi saluto un bacione e alla prossima con nuove creazioni ciao ciao a tutte ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie.